Non c'è tempo per riflettere sul passo falso di domenica contro la Cenerentola Cus Palermo che si torna in campo per recuperare una delle gare rinviate causa Covid. Domani infatti la Nissa di mister Angelo Bognanni sarà di scena sul campo del Monreale, una squadra imbottita di giovani ormai da tempo rassegnatasi alla retrocessione. E questo è il motivo per cui la Nissa ha un solo risultato a sua disposizione per avvicinarsi alla zona playoff, ovvero quello di vincere. Per questa trasferta in terra palermitana i biancoscudati dovranno fare a meno in attacco dello squalificato Retucci, un'assenza pesante che costringe mister Bognanni a rivoluzionare il metodo di gioco. Probabile dunque l'impiego delle due punte che potrebbero essere Pardo e Santoro, oppure l'uruguaiano Rizzi al posto di quest'ultimo. Il tecnico ieri alla ripresa degli allenamenti è rimasto a lungo a colloquio negli spogliatoi con i giocatori per cercare di comprendere insieme i motivi della mancata vittoria contro il Cus e soprattutto della prestazione a dir poco scadente offerta dalla squadra al Virgilio di Campofranco. È vero che i biancoscudati venivano da tre settimane di stop causa Covid e che alcuni giocatori sono apparsi debilitati, ma questo aspetto non può rappresentare un alibi, visto l'enorme divario tecnico esistente tra le due squadre. Retucci che ha lasciato i biancoscudati in dieci proprio nel momento in cui si stava maggiormente pressando nella trequarti palermitana è dispiaciuto per quanto avvenuto ma verrà multato dalla società per avere appunto messo con la sua espulsione in grande difficoltà tutta la squadra. Ad ogni modo adesso bisognerà subito voltare pagina e tornare alla vittoria. La Nissa dovrà recuperare nelle prossime settimane altre due gare, quella casalinga con il derelitto Castel Termini e quella in trasferta contro l'ostico Castellammare. Non sono dunque concessi passi falsi, altrimenti i play-off diventeranno un miraggio.